Attenzione! Questa sera si parla di argomenti difficili, strade malfamate, quartieri brutti, prostituzione minorile e non solo, locali di spogliarelli, industria dei film luci rosse, killer psicopatici e la polizia che non si capisce se fa qualcosa o no. A volte la fa, a volte non la fa. Per cui, mi raccomando, preparatevi, mettetevi comodi, ma soprattutto relax! Sigla! Buonasera, benvenuti alla puntata numero 235 della 400 Live. Io sono Nangel Cobretti, con me il compare Sleazy Quantum. Lo sai! Lo so, confermo. Molto bene! Mi ricordo perché molto ridere all'inizio, ma non vedo una minchia. Sembravi Mangoni super giovane all'inizio, quando dice, miccette, giornali di donne nude! Parleremo di giornali di donne nude, probabilmente. Questo era corretto, per un attimo l'ho tentato di diventare veramente Mangoni. E invece niente, rimango un critico di giorno e un dormo di notte. Così. Allora, questa sera abbiamo veramente a parlare di un sacco di cose. Direi, per andare in ordine, di cominciare con la burocrazia bella, così ci sbrighiamo subito alla burocrazia bella. Ovvero, ringraziamo Charaznable76 per l'abbonamento per il tredicesimo mese consecutivo. Cominciamo a dare gli schiaffi sulla nuca a Timotei Salamento un'ora. Sono molto contento di questa cosa. E basta. Per il momento questo, ma sentitevi liberi di abbonarvi anche durante il corso della puntata. Alzate la mano, io vi do la parola, voi vi abbonate. Funziona così. Come funziona però gli abbonamenti? Ve lo spiego se per caso siete nuovi o non lo sapete. Funziona così. Ci fate molto felici. Fate molto felici le mascotte di Valverde, cui Tulsa Doom, e vai Re Caprotti, Paolo Gucci, Padra Morce, abbiamo tantissime e poi Angela Doom anche stasera. Continuano, continuano. Ogni puntata se ne aggiunge una nuova. In realtà sono statiche da un po', però insomma è ora di andare al calciomercato e acquistare nuove mascotte. Poi chi si abbona al nostro canale Twitch non vede la pubblicità durante la diretta, ma soprattutto durante le serate del giovedì, quindi anche questa sera, quando a fine serata assegneremo il premio Jimmy Bobo al nome più buffo che abbiamo trovato nella scheda IMDB di tutti i film di cui vi parleremo stasera, che sono più di uno. Vi facciamo votare cinque candidati. Voi scegliete quello che vi fa più ridere. Se siete abbonati al nostro canale Twitch, il vostro voto vale doppio, perché l'ha deciso appunto Re Caprotti e la sua parola non si discute. Detto questo, l'argomento di questa sera è l'imminente uscita di Maxine, per la precisione, il 21 agosto nelle sale italiane, grazie a Lucky Red. Che cos'è Maxine? Dovresti saperlo, ma ve lo spieghiamo immediatamente. Maxine è il terzo film di una trilogia iniziata da Ty West con il film X, di cui ho il poster, seguita con un film che purtroppo non si chiamava XX, ma si chiamava Pearl, il poster, e poi Maxine che c'ha un suo XXX in mezzo. Rimetti il poster di Pearl? Lo rimetto. Il poster coreano? Il poster coreano, non lo so, mi è capitato questo. Sono più belli quelli giapponesi. Così, esatto. Maxine, siccome il titolo XXX era già preso dal grande classico con Vin Diesel, l'hanno messo in mezzo, mi sembra. È un omaggio, è un omaggio. È un omaggio, esatto. È un grande autore. Esatto. Come si fa ad avere un nome ancora più figo di XXX? Maxine. Così si sono contenti. Come spiegare la tua... Tu come le pronunci le tre X di Maxine? Io ci rinuncio in partenza. Ok, io facendo un sacco di rumore molesto. Ok, sì. Innaffiando la persona che è davanti. Va bellissimo quando andrò al cinema a comprare i biglietti. Sono vent'anni che li compro online, ma per Maxine lo farò di persona. Per quello che hanno i plexiglass alla cassa, mi immagino. Non li freghi? Ok. Comunque, la trilogia di... Non c'è neanche un... Cioè, come si chiama? C'è un nome per la trilogia di... Cioè, non c'è un nome per la trilogia. Sono tutte e tre titoli diversi. Anche perché la caratteristica... La X Trilogy. La X Trilogy. T-West Porn Trilogy. Esatto. Può essere? Sì, può essere. La caratteristica principale di questa trilogia è che sono tre film che sono sostanzialmente slegati tra di loro. Tutti e tre di un sottogenere diverso. Tutti e tre sono collegati da personaggi imparentati. Neanche indovinate. Vediamo se siete capaci di indovinare cosa parla Maxine. Comunque, ci sono tre film che possono essere goduti indipendentemente l'uno dall'altro. Cioè, una delle cose più belle è che effettivamente... Scusa, Giampiero Spaceblog ha risolto il problema. Si chiama Trilogix. Si chiama Trilogix. Grande. Fantastico. Sprevo che potevo contare su Giampiero che suggeriva Trilogix. Fantastico. E ne approfitto, siccome l'ho visto al volo, per ringraziare Fab Futurist per l'abbonamento per il 26 giugno mese consecutivo. Quindi partono gli schiaffi a Timotechia da me e gli interiamo immediatamente uno così. Che bello. Bello. Comunque, cioè, quando normalmente si dice che puoi vedere il sequel di un altro film senza aver visto l'originale, cioè di solito si intende o il film che all'inizio si preoccupa di spiegarti tutto e di, insomma, farti recuperare il pezzo di storia che ti manca o di fartelo, o di spiegartela, cioè di ripetere nel corso del film. In realtà ci sono tre film che se non conosci veramente cosa è successo prima, al di là di vaghissimi riferimenti, cioè sono veramente totalmente indipendenti per quello che mi riguarda. Non so se è la tua stessa impressione. Assolutamente. Ed è questo che lo rende una gran trilogia, perché puoi vederli anche in ordine a caso. Si, puoi veramente vederli in ordine a caso. Esatto. Cioè è veramente una delle rare tecnologie che puoi vedere in ordine random e funziona uguale. E ora già immagino gli articoli su Screen Crash, ecco l'ordine corretto in cui guardare la Trilogix. È il primo che vi scappa sotto il tasto play, più o meno. Però è bello, cioè è un'operazione molto insolita e anche, sono anche tre generi per quel che mi riguarda che non si aggrappano a nessuna moda del momento. Cioè il primo film, cioè il massimo che faceva il primo film per aggrapparsi a una vaghissima moda, era quello di essere per metà il classico film alla non aprita con la porta, ovvero i giovani in furgoncino che si recano in una casa vagamente sperduta. Sì, nel caso la citazione era proprio lampante. Tra l'altro a quanta distanza è uscito dall'effettivo remake bruttissimo di Netflix di non aprite quella porta? Cioè un anno prima. Sì, cioè a poca distanza. Cioè comunque è plausibile nella fanfiction che mi sto scrivendo nella mia testa che girava voce che stavano facendo sta roba e Ty West ha detto fermi sfigatici, penso io. Ma è una domanda difficile perché non mi ricordo nella recensione se ho scritto, perché penso che verrà scritta io, però non mi ricordo più se ho scritto nella recensione di Higgs. Però secondo me la gancia non aprita con la porta era pretestuale giustamente per dire sì, questo lo si può vendere perché è uno slasher che si infila in questo filone super noto che non passa mai di moda eccetera. Però in realtà i discorsi che fa sono parecchio diversi e io ricordo di aver avuto la forte impressione che Shyamalan fosse un'influenza più che non aprita quella porta. Questa era l'impressione, cioè non solo per il fatto che Ty West ha un modo di girare, di mettere in scena che è molto tecnico, cioè guarda molto, si dice, alla composizione dell'inquadratura. È una cosa, cioè uno di quegli autori che proprio ogni singola inquadratura te la deve progettare come si deve e farti il bel movimento elegante di camera, mettere tutti gli elementi a posto giusto e non fa niente a caso, ecco, per quanto riguarda. E poi tutta questa tecnica la usa per fare i film di donne nude e questo è una cosa che noi salutiamo. Esatto, è una cosa che fa incazzare tantissimo Paul Schrader. Che fa ridere perché citeremo Paul Schrader nel corso della serata. Però insomma questa è una cosa che a suo modo mi ha ricordato Shyamalan, lasciando perdere che c'è un twist anche in X ovviamente, che si può più o meno nasare o meno all'inizio. Adesso non vi stiamo a raccontare tutto quanto, c'è una recessione su 400 calci, potete leggere, potete recuperare. C'è anche un film che si può guardare che si chiama X, non so dove lo si possa recuperare in questo momento, sicuramente in piattaforma a qualche parte. Il sequel era in realtà un prequel, era ambientato negli anni venti, si parlava della nonna di Maxine, ovvero Pearl, e del fatto che non stesse benissimo. Ma scusa, è canonico che è la nonna? Sì, per motivi di cui non voglio... Secondo me sì, per la distanza, cioè voglio dire, siamo negli anni venti in Pearl, siamo negli anni settanta in X, secondo me la distanza è esagerata perché si ha appena la figlia. No, no, no... Non venga specificato, però la distanza è tale che secondo me c'è una generazione in mezzo che hanno... No, 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 quello senz'altro è che io proprio non ero sicurissimo della parentela. Guarda, cioè devo dirti la verità, nemmeno io al 100% penso che non venga menzionata esplicitamente, o forse lo è e mi è sfuggito il pezzo, però ho ragionato puramente incastrando i film, l'epoca in cui sono ambientati, eccetera. No, che poi non è... cioè non è un dettaglio super rilevante per la fruizione, cioè può funzionare in entrambi i casi. Sì, sì, alla fine non è fondamentale, però voglio dire, anche in X vedi due personaggi, c'è veramente una distanza di età piuttosto marcata per essere semplice madre e figlia, ecco. Mentre Maxine invece è ambientato negli anni Ottanta, nei gloriosi anni Ottanta, riprende i personaggi di Maxine una decina di anni dopo gli eventi successi in X, eventi successi in X che vengono citati ma che non sono assolutamente indispensabili per capire quello che succede nel film, ecco. Maxine è appunto il film di cui vogliamo... cioè che vi introduciamo questa sera perché quello che fate a West in Maxine è ispirarsi a un genere a cui sono personalmente molto affezionato. Non so se direbbi strattato, sicuramente se mi dimenticate, è veramente un sottofilone... Non popolarissimo, ecco. Non popolarissimo, però che unisce tutta una serie di film, è un filone che ho visto qualcuno chiamarlo Sleaze Core. Sleaze Core, certo. Però è un termine vagamente ambiguo, perché se andate a cercare Sleaze Core su Google adesso... Parlab? No, non necessariamente su Parlab, se andate letteralmente su Google e cercate Sleaze Core viene fuori Timothè Chalamet al Coachella Festival o qualcosa del genere. Non so perché. Però, cioè, ho provato a cercarlo per vedere se fosse un termine in qualche modo ufficializzato se era una cosa che vedevo ripetere da certe persone nella loro bolla e buona lì. Però mi pare di capire che è anche un nome usato per un certo modo di vestirsi abbastanza recente, che sono i ricchi che si vestono un po' peggio della media, ma apposta ovviamente e in modo... Ironicamente. Ironicamente, tipo che ne so, prendi Timothè Chalamet e gli metti la camicia a boscaiolo, una cosa del genere. Io credevo che avesse fatto tutto il giro e considerando quanto tutta questa cosa è legata alla lore dei 400 calci, si va a Timothè Chalamet per avere l'occasione di tirargli uno scapellotto. Ma questo sì, c'è il punto è questo. Voi incontrate Timothè Chalamet a Coachella con la camicia a boscaiolo, una cosa che... E gli dici come ti permetti di appropriarti dello Sleaze Core e gli dai un pugno. Esatto. Finale di no, però insomma, lo scappellotto non ci sta mai male. però per quanto riguarda il filone di cui vogliamo parlare questa sera, più o meno le origini vengono ricondotte appunto al già citato Paul Schrader e a un film nello specifico, ovvero Hardcore. il leggendario Hardcore con uno dei poster più belli di sempre, sai che chiama? Perché un poster che si scrive soltanto, oh my god, that's my daughter, è bellissimo. È tutto quello che devi sapere, cioè ti devi immedesimare nel protagonista, è un clickbait prima ancora che inventassero i social. La gente andava lì, cliccava sul poster e non capiva e hanno capito che c'era il potenziale. È un lavoro di marketing fenomenale quello che c'è attorno a Hardcore, tant'è che, e qui cito il mio omonimo Quentin Tarantino, nel suo libro saggio che dedica un intero capitolo a Hardcore, dice hanno fatto una pubblicità così bella che poi il film non poteva essere altrettanto bello, non poteva rispettare delle aspettative così alte. Sì, era veramente bellissimo. Il film per fortuna è molto bello, adesso fortuna l'ho visto la prima volta fuori dalla campagna marketing, però insomma per me rimane un filmone. Rispondo a Mark Holland 88, che chiede se ci potrebbe stare anche Cruising di Friedkin. Cruising di Friedkin assomiglia molto a Hardcore, soprattutto per come è stato fatto, cioè chiedendo di poter avere accesso ai reali ambienti della pornografia di quegli anni. Molti dicono che Cruising è la versione di uscita di Hardcore. Io non riesco ad avere un preferito, sono due registi diversissimi, due film diversissimi, che hanno molto in comune, ma non riesco a dire uno è meglio dell'altro. Sicuramente si possono buttare dentro lo stesso calderone. Fanno una cosa abbastanza simile, nel senso che entrambi parlano di due protagonisti che devono a loro modo infiltrarsi in un mondo che non conoscono. Poi in Hardcore questa cosa è super moltiplicata, la trama molto in breve di Hardcore, per chi non la conosce, è un padre estremamente religioso, proprio viene detto anche specificatamente calvinista, proprio quella più classica, benestante, con la sua bella azienda super ricca. Proprio quelli che credono che Dio salverà 13 persone in tutto il mondo, e loro sono quelle 13 lì. Esatto, tutte e 13 è la loro famiglia, esatto. A un certo punto una figlia che era partita per la gita con la parrocchia, più o meno per fare uno di questi campus con la parrocchia, sparisce, non dà più notizie di sé per diversi mesi, il padre comincia a cercarla, assume un investigatore privato, scopre che la figlia era finita in un film porno. Comunque non si sa ancora dov'è, e lui decide insomma di entrare nel mondo dell'industria dei film per adulti e cercare di scoprire che fine ha fatto la figlia. Per quel che mi riguarda rimane un film spettacolare, penso si possa discutere tantissimo di come dipinge l'industria del cinema per adulti. Non benissimo. Non benissimo. Penso che rispetto a come l'ho vista in tanti altri film molto meno curati, almeno cerca di non essere glamorizzante né in un senso né nell'altro, si sforza di essere abbastanza terra-terra, qualche amarone comunque lo fa, qualche super... No, no, parte bene, poi non vorrei fare spoiler, quindi dirò semplicemente che sbraga un po' nel finale. Sbraga un po' nel finale, esatto, giusto dire così. Però insomma, se non altro cerca di renderlo una cosa più o meno credibile e cerca di non esagerare. La cosa bella del film, secondo me, è proprio identificarsi nel protagonista che è un George C. Scott enorme. George C. Scott, se per caso non lo conoscete, mi preme ricordarvi che era il leggendario protagonista di... ve lo faccio vedere subito... di Pallonata nel linguine, guardiamolo. George C. Scott, facciamo rivedere, è proprio lui... Grande, Pallonata nel linguine, ricordiamo, c'è film prestigioso, vincitore del festival, mi sembra. Esatto, vincitore, uscito per la Criteria... No, 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 il vincitore era il film di Barney. Sì, ha ragione, ha ragione, però insomma... È un film molto amato, molto amato dalla gente. È proprio il classico scisma pubblico-critica, che il pubblico amava Pallonata nel linguine e la critica invece ha premiato quello di Barney. Esatto, esatto. Comunque, per me la parte bella è che ti identifichi molto nel protagonista e ti fa vedere proprio lui completamente spaesato tutto il tempo e è proprio vederlo immerso in quel mondo lì è la parte migliore del film. Secondo dobbiamo citare mille film, passiamo velocemente. Un altro film molto citato è Vice Squad, 1981. Meno conosciuto, ebbe un sacco di problemi all'epoca perché veramente era... Non si capiva se incasellarlo nell'exploitation pura o nel film di denuncia. Era un film che era nato cercando di mettere in scena dei veri casi della polizia, della Vice Squad di... Comincio già a confodermi su questo, era ambientato a Los Angeles o a New York. Sono sempre a Los Angeles. Questo è sempre a Los Angeles, sì, perché poi invece c'è Fear City che è ambientato a New York, esatto. Questo era sempre... sì, ovviamente, sempre a Los Angeles. Regista Gary Sherman, che dopo ha fatto qualche altro film di culto però ha avuto meno fortuna di quanto meritasse. Dead and Buried era suo, molto bello. Wanted, Kurt Gerauer, suo, molto bello. Poi Poltergeist 3, a mio avviso sottovalutato. Vice Squad è famoso anche perché fu difeso a gran voce da Martin Scorsese all'epoca che disse che per lui era il film dell'anno. però ebbe un sacco di problemi di censura, insomma. Non ebbe tutta la fortuna che meritava, è rimasto un po' un titolo di culto. Altro titolo già citato. Ti fermo un secondo. Hanno in comune un'attrice, Arcor e Vice Squad. Esatto. Season Hably, che vediamo in questa foto di tre quarti, purtroppo. Però, fidate via lei. Però lei era anche quella che interpreta un'attrice che aiuta George C. Scott in Arcor. Season Hably, che ricordo, fu moglie di Kurt Russell per qualche tempo. Per tipo tre giorni prima che poi Kurt Russell entrasse nella relazione più lunga della storia di Hollywood. Esatto. Insieme tutt'ora. Però lei è quella che interpreta Priscilla Presley nell'Elvis di John Carpenter in cui Kurt Russell fa Elvis. E ha anche un ruolo piccolo, anche in fuga da New York. Diciamo, Fear City, conosciuto in Italia come Paura a Manhattan. Questo invece è ovviamente ambientato a New York, quindi per le strade della 42esima strada. Altro gran filmone di Abel Ferrara. Anche questo è ambientato fra strip club, killer psicopatici, eccetera. Ecco, Abel Ferrara è nella vita vera il personaggio di George C. Scott in Arcor. Più o meno sì, esatto. Cioè, un matto religioso che passa tutto il suo tempo a darsi pugni nelle palle sentendosi in colpa perché ha degli impulsi sessuali. Esatto. Tranne che comunque lui ha sempre frequentato quegli ambienti lì che io so. Ma poi pentendosi. Ma poi pentendosi. Quindi è un po' il percorso inverso, se vogliamo, ecco. Poi, prima di arrivare invece ai film principali di cui vi parleremo stasera, cito invece, vado più avanti, cito il film più mainstream di tutti probabilmente, ovvero Omicidio a Lucirosse, che qua invece ho beccato in un poster francese per qualche motivo. Ullala! Esatto. Omicidio a Lucirosse, anche qua siamo sempre stessi ambienti, qua sempre Los Angeles, sempre l'industria dei... Lucirosse, killer, eccetera. Ho questa bella immagine perché mi piace questa bella immagine, nel finto split screen. De Palmec dice, no, stavolta non lo faccio lo split screen, e poi lo fa lo stesso, però lo fa finto usando una porta al specchio. Ed è così orgoglioso di questa cosa, che poi il protagonista più avanti dice, hai visto quella scena con lo specchio? È stata una mia idea! Fantastico, fantastico. Ah, giusto, siccome ho citato Vice Squad, vi cito anche un altro film che in realtà non c'entra niente, però per un attimo ci sono cascato e l'ho guardato, che si chiama Hollywood Vice Squad. Allora, Hollywood Vice Squad, prendete la trama di Vice Squad, ma invece che fare un film violentissimo, cupo, duro, realistico, eccetera, lo date in mano alla regista di Fusi di Testa e fate una commedia stile Beverly Hills Copp. La cosa bella è, anche questo dichiara di essersi ispirato a casi veramente successi sull'Hollywood Boulevard con la Vice Squad di Los Angeles. Eh, beh, può succedere di scivolare su una buccia di banana. Esatto, tranne che, cioè, sono gli stessi, parla delle stessi casi, psicopatici, industria e porno, prostituzione minorile, esattamente le stesse cose, tranne che qui fanno ridere, e questa è la differenza. È la magia del cinema. Sono le bizzarre avventure di poliziotti simpaticissimi interpretati da Joy Travolta, il fratello di John. Ma sai che quando l'ho letto credevo avessero sbagliato a scrivere? Mi ricordavo che ho un fratello. Invece è davvero il mitico Joy Travolta che c'ha l'accento ancora più calcato. Cento italo-americano ancora più calcato. C'è anche niente meno che Carrie Fisher platealmente contro voglia. Oltre ad essere un'idea abbastanza comunque terribile, non fa nemmeno ridere, quindi risolto il problema in anticipo. Però siccome stiamo facendo il gioco dei collegamenti, in Hollywood Vice Squad c'è la moglie di George C. Scott, quella in real life. Una delle sette. Una delle sette. Sì. Scusate, miliardi di volte. A cento figli. Mi son perso di segnarmi il nome, però quando ho visto questo trive ho detto che bello che tutto quanto si collega. Ma non finiscono qua i collegamenti. Passiamo finalmente al piatto forte della serata, partendo dallo sceneggiatore di Vice Squad, ovvero, porca miseria, c'ha tre nomi, Robert Vincent O'Neill, che ho detto una cazzata. Va bene, ho fatto in tempo a guardare sui MDB. Robert Vincent O'Neill è cosceneggiatore di Vice Squad, poi nel 1983, per alcune fonti, 84 per altre fonti, per motivi che non stati a chiedere sono troppo difficili, non ho una più palida idea, dirige questo film con il poster bellissimo chiamato Angel. Oh, e finalmente ci siamo. Di cosa parla Angel? Angel parla di una ragazzina di nome Molly a 15 anni di giorno va a scuola come tutte le brave ragazzine di 15 anni, eccola qua. La sera, invece, diventa Angel, una prostituta minorenne sull'Hollywood Boulevard. Ora, come si spiega questa doppia vita spiegata dal poster? Fammela spiegare ai più giovani. Allora, la doppia vita è un po' tipo il multiverso, tranne che non devi cambiare universo, cioè, non so se è un concetto che è facile da spiegare. È come se tu fossi due personaggi contemporaneamente, però invece che essere separati da un portale magico aperto dal Doctor Strange, in realtà te la giostri un po' a orari, invece che, cioè, dimmi di più di questa cosa che non prevede l'intervento del Doctor Strange. È una cosa che, cioè, tu rimani più o meno te stesso, però in realtà cambi, però cioè, devi cambiare tu cambiando il nome e cambiando i vestiti e cambiando mestiere e poi la cosa importante che ti devi ricordare è che quando tu sei una persona di giorno e incontri qualcuno che conosceva se era e devi fingere di non riconoscerlo e viceversa. Per cui in realtà, cioè, forse il multiverso è più semplice, questa è una cosa però... Si sembra più costissima questa cosa che descrivi. Però negli anni Ottanta c'erano diversi film ambientati in questo multiverso che combaciava in realtà un universo unico. Comunque, Angel esce nel 1983 molto brevemente viene distribuito da Corman con la New World inizialmente non fa questi grandi incassi però diventa quello che si chiama in gergo uno sleeper hit ovvero uno di quei film che poi accumulano col passaparola e cominciano a incassare sempre di più per cui in realtà non sfonda mai tipo non va mai al primo posto in classifica però rimane nella top 10 per molte più settimane di quanto normalmente rimangono film di questo genere. Poi diventa un successo in un video e io non vedevo l'ora di far vedere prima questa bellissima pubblicità della videocassetta americana che secondo me è bellissima le videocassette ma poi io mi ero preparato questa ma poi colpo di scena tipo 10 minuti prima di andare in onda mi manda un messaggio l'amicissimo Andrea Lanza di Malastrana VHS e mi manda che ha tutto il suo mestiere più o meno mi manda una foto delle videocassette della versione italiana di Angel che sono in suo possesso ed è qui che mi sono ricordato che in Italia Angel si chiama Angel Killer Angel Killer 2 la vendetta per il sequel che meraviglia titolo curioso per effetti si perché confonde personaggio confonde l'eroe col cattivo più o meno confonde un genere con un altro confonde il genere con un altro confonde il buono col cattivo però Angel da solo siete che in Italia non beccava comunque diciamo la storia di fare confusione con la serie con David Boreanaz che sarebbe uscita vent'anni dopo si può essere o quella con Jessica Alba quello è Dark Angel quella era Dark Angel ok comunque Angel e anche lei aveva una doppia vita perché faceva la persona normale di giorno e la giustiziera di notte è veramente tutto anche lei senza multiverso cioè è una cosa incredibile è incredibile cosa riuscivano a fare prima che inventassero il multiverso esatto quando il multiverso era di legno queste erano le cose che toccava era analogico dovevi girare una cosa comunque Angel insomma è un film come descriverlo è un film abbastanza strambo cioè è un film di cui si fatica un po' a capire il target proprio tu continui a guardare il film e più lo guardi meno capisci qual è il target la storia inizialmente vorrebbe farti vedere la doppia vita appunto del suo personaggio e farti sconvolgere dal fatto che una minorenne va a scuola di giorno e poi la sera si prostituisce sull'Hollywood Boulevard poi ci butta dentro la trama di un serial killer per movimentare un po' le cose e però c'è da dove cominciare con l'elenco di cose che lasciano perplessi alzo le mani ok io inizierei dalla sfilata di street performer che si rubano la scena al minuto 2 e non la ridanno fino al minuto novantesimo esatto quella in effetti è una buona idea io ce ne ho un paio ve li mostro immediatamente allora qua abbiamo quello che fa Charlie Chaplin io io Charlie Chaplin io io Charlie Chaplin perché sì perché non solo fa l'imitazione di Charlie Chaplin ma è specializzato in io io è come quando alle fiere del fumetto ci sono i cosplay tipo sei il Joker no però sono il Joker bisessuale steampunk sì cioè quelle cose che mischiano cerchi cerchi di unire tutte le tue skill in un'unica cosa che abbia senso o meno e speri che che catturi l'attenzione in qualche modo e poi vabbè il grandissimo Kit Carson uno dei personaggi più belli del film che bello no ce ne sono diversi fondamentalmente funziona così lei nella sua seconda vita quella notturna si prostituisce sull'Hollywood Boulevard però lei sostanzialmente è un'orfana orfana non perché i suoi sono morti ma perché entrambi i genitori l'hanno abbandonata l'hanno abbandonata in momenti diversi sì sì questa è la storia tragica per cui insomma di giorno studia fa quel che deve fare però la sera la sua vera famiglia sono insomma quelli con cui si ritrova a si dice battere in marciapiede sull'Hollywood Boulevard essenzialmente quindi non solo lei c'è anche ho dimenticato dei personaggi mi ricordo solo quello degli attori però quello a sinistra che è interpretato a grandissimo Dick Shawn di cui vi devo parlare è un po' la sua cosa si dice questi casi stavo per dire figura paterna mi sono bloccato perché è una cosa controversa è ambito una figura genitoriale per non fare perché io credo nel film il personaggio si identifica come un uomo nonostante si vesta da donna perché è una drag queen esatto è una drag queen quindi cioè tecnicamente un semplice attentreremo più di così in questo argomento per evitare è un personaggio secondario che non si disturba a spiegarci la sua autobiografia a schermo per cui tutto ci blocchiamo apro subito la parentesi su Dick Shawn perché è uno dei miei caratteristi preferiti che tengo d'occhio dalla prima volta che ho visto il mitico The Producer di Mel Brooks che in Italia si chiamava aveva un titolo assurdo in Italia The Producer di Mel Brooks non sapevo è una roba tipo per favore non toccate le vecchiette una cosa del genere c'era dei titoli veramente che non avevano il minimo senso insomma The Producer è sempre una gaia commedia neonazista ok penso che col tempo abbiano cominciato a chiamarlo The Producer per favore non toccate le vecchiette hai ragione non toccate le vecchiette finché ha lanciato la carriera di Mel Brooks la storia The Producer è stata rifatta portata in teatro riportata al cinema di nuovo dovete saperla sono quella di due imbruglioni che per truffare quella mettono in scena sostanzialmente uno spettacolo teatrale che deve fallire e la loro idea è di fare una specie di parodia con il protagonista Adolf Hitler che poi scusa anche tu quando andavi a scuola le vecchiette erano i pugni dati con no questa mi manca dati in una certa maniera che adesso non mi ricordo però forse è una roba milanese no allora intendi quelli con la nocchia del medio avanti noi li chiamavamo rucchetti era diverso da noi si chiamavano le vecchie o le vecchiette il rucchetto si chiamava ah quante ne ho prese e quante ne ho date esatto dai miei tempi quanto tempo ad allenarmi contro una piccola palma a tirare i rucchetti per rafforzare le nocchie e poi alla fine avevo degli addominali incredibili come tutti così per bonus comunque Dickton era quello che interpretava Adolf Hitler e rubava la scena perché era una cosa veramente spettacolare da guardare era una roba senza senso a guardare era veramente uno completamente fuori di testa e da allora ogni volta che vedere tutti i suoi film è difficilissimo ne ha fatti una marea però insomma ogni volta che lo vedo sono contentissimo e qua ovviamente è un gigante e poi altro personaggio che sono sempre contentissimo di vedere ogni volta che capita un film in cui c'è anche lei Susan Terrell questo personaggio incredibile forse quello più problematico quello più problematico di tutti come descrivere Susan Terrell io non saprei descrivere lei lei di persona no il personaggio ma lei di persona il modo migliore in cui la posso descrivere è una versione femminile di Gary Busey però prima di Gary Busey quindi aperte virgolette tag eufemismo eccentrica ok ci fermiamo qui ci fermiamo qui comunque una che va in overacting continuo senza problemi proprio sì in effetti cioè tecnicamente sono tutti e due problematici perché Dick Sean ovviamente è etero Susan Terrell è etero oppure lei però lei fa il personaggio omosessuale fa completamente sopra le righe però fa una roba talmente matta cioè il problema è il problema principale è quando interpretano degli stereotipi se non altro nessuno dei due mi sembra che interpreti uno stereotipo poi lei è completamente fuori di testa ma perché penso abbiamo detto il tuo personaggio è questo fatti venire delle idee guarda io mi sono messo la coscienza sociale a posto dicendomi che non lo fanno in cattiva fede nessuno dei due è uno stereotipo offensivo volutamente offensivo sono entrambi dei personaggi positivi anche se nel caso di lei lo capisci a tre quarti di film sì perché non ne ero sicuro all'inizio e sono fatti in buona fede e comunque il succo del discorso che questa è la famiglia elettiva che ha accolto Angel al proprio interno quando tutto il resto della società per bene le ha voltato le spalle quindi molto meglio questo gruppo strampalato di outcast emarginati pazzi stramboidi rispetto a quelli che magari sono tutti conformano alle regole della società però in realtà sono degli stronzi ipocriti quindi dal punto di vista del filmmaker c'è solo amore per queste persone troppo amore perché fin poi diventa su di loro sì sostanzialmente sì poi lei il personaggio di lei è forse più giustificabile anche nel momento in cui ti spiegano che fa l'artista e quindi tante di quelle cose pazze che fa e il modo pazzo in cui si comporta non è per forza come dire un modo in cui lei interpreta diciamo l'omosessualità ma tranquillamente anche un modo in cui lei è un artista eccentrica indipendentemente dalle preferenze sessuali quindi volendo rigirarla in un modo accettabile però così questa è la sua famiglia elettiva come andare avanti sono veramente tante le cose che colpiscono tante le scelte le scelte forti mettiamole così possiamo parlare per dirne una del fatto che lei è una prostituta non prostituta allora il punto è questo sono riuscita a vedere un'intervista a Robert Vincent O'Neill che non va troppo in profondità su quelle che sono le idee alla base del film però racconta di come Corman gli avesse chiesto il film forse qua dobbiamo fare anche una parentesi su quella che era la storia che è ispirato il film però se apro adesso poi mi perdo però lui racconta di come ha consegnato a Corman questo film in cui la protagonista è una prostituta minorenne che non viene sessualizzata per fortuna cioè partono tutta una serie di per fortuna sostanzialmente però sono cose che non vanno date per scontate negli anni 80 quando produce Corman ho comprato la VHS esattamente per quello ma che fortuna che poi non succede non viene sessualizzata non viene mai mostrata mentre si spoglia non viene mai mostrata coi clienti o se viene mostrata coi clienti è solamente nel momento delle trattative e basta e poi la cosa si ferma lì non vanno mai in porto per una serie di circostanze esterne alla sua volontà però non vanno mai in porto esatto poi lui faccia notare non dice le parolacce va in chiesa e poi è bravissima a scuola dicono che a scuola è bravissima studia tantissimo e la cosa divertente se vogliamo è che Corman quando ha visto i film ha detto che cazzo fai insomma Corman ha dovuto convincere sostanzialmente quello che racconta lui è che il film consegnato così non era abbastanza sleazy per Corman non era abbastanza sporcaccione tra l'altro un'altra cosa divertente svolgendo il film appunto che è ovvio che Corman non butta fuori un film se non ci metti delle tette in mezzo in qualche modo cioè non lo fa quello te lo manda veramente indietro lo manda indietro l'unica circostanza in cui Corman manda indietro un film questo film nonostante la trama potenzialmente pruriginosa ha ovviamente delle scene gratuite di topless ma sono talmente gratuite che veramente sembra una roba che lui ha girato dopo che Corman gliel'aveva rimandato indietro cioè quello che ricordo io che le uniche scene di topless del film sono scene assolutamente inutili in cui si vede la protagonista a scuola negli spogliatoi che si cambia lei non è mai spogliata però sono spogliate tutte le compagne intorno tra l'altro qui è dove parliamo dell'età degli interpreti mi sembra che hanno palesemente 40 anni allora la protagonista va la facciamo rivedere Donna Wilkes lei ha 23 anni nel momento in cui gira questo film e deve dimostrarne quindi è il classico trucco per cui tu fai interpretare un teenager da un adulto basso quindi Donna Wilkes insomma rispettava questa cosa il trucco per farla sembrare più giovane è metterla di fianco a qualcuno adulto di più alto e questo era l'effetto questo era come lei sembrava giovane e se non me l'avessi detto avrei pensato che era una foto di scena di Orphan esatto e comunque insomma lei 23 anni le compagne che si spogliano gli spogliatori ovviamente sembra tutte modelle di playboy quindi c'è dai 25 in su molto tranquillamente cioè non ti sbagli neanche per un secondo quelle neanche neanche l'altezza sono state guardate chi ha fatto entrare in un liceo quelle esatto sono le mamme che sono andate a prendere le figlie però l'apoteosi è ovviamente quelle che sono i compagni maschi di scuola qui abbiamo vi facciamo vedere il bullo il classico gioc capitano della squadra di football e vi invito a indovinare la sua età no ma lui è chiaramente un caso che è così bravo a giocare a football che continuano a bocciarlo per farlo restare a scuola lui è quando tipo la Juve fa la squadra di giovani da mandare serie C gli sono premessi due fuori quota e lui è il fuori quota di 33 anni e poi e poi forse il peggiore di tutti è il nerd porca miseria il nerd cioè se tu mi dici questo è il professore io ti dico sì è Andy Dick però no non è il professore sì è uguale a Andy Dick ma forse quello no non è il professore è il suo compagno di scuola di 15 anni più forse ci stava bene un'immagine che non ho preparato tratta da walkhard con John C. Reilly John C. Reilly che dice ho 14 anni e se ho 15 anni 15 anni porca miseria è quello penso che il succo del film è che diciamo che per metà film ti intrattiene perché fa un sacco di scelte belle fordico personaggi stravaganti eccetera l'altra metà è perché non capisci qual è il target e non capisci cosa voglio raccontare è metà un film del lifetime channel più o meno dove vuole commuoverti su questa ragazzina che fa la doppia vita la prostituta minorina cioè i film del lifetime channel oggi riescono ad essere più audaci di Angel nell'83 sì sì sostanzialmente sì esatto parliamo anche di questa cosa che so che è un argomento che ci appassiona entrambi ovvero il fatto una delle principali che stranisce forse al di là del sospiro di sollievo che non sia troppo sporcaccione quando si tratta di di minorenni c'è il fatto che comunque la prostituzione minorile non è vista come sta gran tragedia tipo sì vabbè cioè è triste che una persona che va ancora a scuola debba già lavorare però succede sì però è quello cioè è veramente c'è una scena all'inizio dove ti fa vedere un poliziotto che cerca di arrestarla perché si prostituisce ma all'epoca cioè i poliziotti arrestavano più o meno tutte le prostitute minorenni o meno cioè c'erano le retate per questo motivo e il fatto che lei sia minorenne non sembra per forza un aggravante no tra l'altro ti volevo chiedere se tu sai non per esperienza diretta come funziona cioè è palese che quelle si stanno prostituendo sì perché la polizia la vice squad che chiamiamola col suo nome italiano che è la buon costume buon costume deve incastrarle per poterle arrestare deve coglierle in flagrante deve riuscire a farle mi sembra che il trucco sia quello perché loro possono esercitare ma non possono adescare è qualcosa sì penso che sia queste formalità se non sei super esperto di come funziona la prostituzione ci sono dei passaggi del film che non sono chiarissimi non sono chiari per nulla ma la cosa che non la prima cosa che non è chiara da persone che si trovano in questo momento nel 2024 e che devono o cercare di ricordarsi come erano negli anni 80 o oppure cercare di capirlo proprio da zero questa cosa che lei è minorenne e che nessuno si sconvolge cioè e come dicevi tu la gente si sconvolge ma per più per il fatto che è minorenne e le tocca di guadagnarsi da vivere da sola che per il fatto che si è molto più grave che lei sia orfana e debba prendersi cura di sé da sola che è uno del fatto che abbia scelto proprio questa linea di lavoro è trattata come se avessero beccata che so a cucire i palloni cioè come quando io andavo al liceo avevo un compagno di classe che la sera consegnava le pizze sì quello cioè sbatti perché era stancante però si faceva oh sì esatto proprio non hai alternative mi dispiace davvero tanto vorrei aiutarti sostanzialmente il poliziotto questi tipi di discorsi fa vediamo qua il poliziotto che si preoccupa ce l'abbiamo però sì fa questo tipo di discorso ma c'è un certo punto in cui lei è in caserma con tutte insomma amici e amiche stanno cercando di capire com'è la situazione col serial killer che ha appena ammazzato uno di loro e il fatto che lei è minorenne cioè non fa scattare nessun allarme cioè le parlano come con tutti gli altri è buona lì quindi questo è già un discreto cortocircuito qua prima di dimenticarmi è dove vi cito velocemente l'origine comunque della storia che è questa storia è stata tratta da un racconto che si chiamava Hollywood Star con due R due R perché è un po' più figo come Maxine esatto in cui si parlava sempre di si parlava di una ragazzina che era stata abbandonata dal padre e di conseguenza si prostituiva e a un certo punto c'era un killer e il killer del killer si sapeva che era vestito da Babbo Natale come questo succede e alla fine del film si scopriva che il serial killer vestito da Babbo Natale era il padre della nostra protagonista che l'aveva abbandonata per poter fare il serial killer a tempo pieno che è una trama eccezionale e questo mi permette di agganciarmi e parlare del serial killer di questo film che è un personaggissimo e allora il serial killer di questo film interpretato da un autore che si chiama John Deal vi racconto un aneddoto che racconta il regista negli extra del Blu-ray il provino a quest'attore è andato in questo modo allora il personaggio del killer non ha righe di dialogo per tutto il film non è muto però non ha nessuna battuta nel film però deve sembrare matto devono inquadrarli ogni tanto e deve fare le sue scene di omicidi e deve sembrare uno completamente schizzato questo attore John Deal che è una faccia che dopo è diventata abbastanza conosciuta è diventato un caratterista che io ricordo soprattutto in Stargate se non sbaglio che era tipo il secondo di Cart Russell in Stargate una cosa del genere comunque insomma fa il provino non convince del tutto però abbastanza da dire torna domani rifacciamola e gli dicono senti bisogna che lavori molto su questa cosa che killer non ha battute tu devi esprimerti in un altro modo però preparare qualcosa che ci convinca senza che tu debba dire neanche una battuta lui torna a casa il giorno dopo si ripresenta e rifà e fa praticamente una scena che poi mettono immediatamente nel film che è la scena dove facciamo vedere lui ha lui ha allora immaginatevi la scena allora questo arriva dice si ho preparato una scena secondo me va bene tira fuori una foto di una signora di 50 anni con la sua figlia la appende al muro poi tira fuori un uovo comincia a puntellarlo per fargli un buco sulla punta poi guarda la foto appesa al muro e comincia a bersi l'interno dell'uovo e poi a spiaccicarselo in faccia così e il regista ha detto è bellissimo si sei preso sei è quello che immaginiamo abbiamo il film non serve altro il punto è che tu vedi questa scena e ti chiedi ma che cazzo vuol dire che cazzo ecco come gli è venuta in mente non vuol dire riguardiamola cioè è cioè una delle cose più disgustose cioè Divine che mangia la cacca del cane in Pink Flamingos è proprio un centimetro sotto lui che si mangia un uovo è questa cioè capito cioè non è che si pasticcia che fa qualcosa di apertamente sessuale no cioè prende una foto più neutra possibile porca miseria di una signora con una bambina e poi si mangia un uovo che poi per come è stato montato montata quella scena cioè era un montaggio parallelo tra Angel e la sua famiglia e i suoi amici che facevano colazione alla tavola calda con una normale colazione e lui che faceva colazione con quest'uovo che tira fuori da un cassetto del comodino sì cioè io sono dell'idea che non vuol dire niente ma è bellissima che è un po' il scucco di come Scumbell Finn lui ha delle vibes grossissime del Red Dragon di Manhunter ah sì sì in effetti sì c'ha tanto Manhunter cos'è uscito nell'87 Manhunter sì poi il libro non ho idea però no però il fatto che lui è un po' culturista lo si vede che fa un sacco di esercizi prima di andare a caccia c'ha questa cosa con la raccontano che veniva abusato dai genitori o qualcosa del genere cioè sono tutte cose che poi tornano in Manhunter secondo me è anche in comune alla fine con Fear City con Paura su Manhattan di Abel Ferrara anche lì forse in quello di Ferrara era ancora più esagerato perché oltre che culturista era proprio fissato con le arti marziali un altro film che è divertentissimo da raccontare me lo faremo un'altra volta e però insomma questo è John Deal che un'altra cosa che fa è che a un certo punto prima del finale decide di radersi completamente a favore di camera con il bello serramanico esatto zero trucchi zero effetti speciali tutto in diretta questo era quanto era dedicato al ruolo quanto era intenso il buon John Deal ma ti prego spiega perché si rapa a zero si rapa a zero perché la sua idea per il finale è quella di travestirsi da re Krishna e compiere i suoi micidi così no perché l'hanno identificato ah sì l'inservazione in cui l'avevano beccato l'avevano beccato l'avevano portato in caserma era stato identificato incastrato lui era riuscito a salvarsi con una sparatoria per cui doveva camuffarsi insomma e la sua idea geniale era adersi a zero mettersi un lenzuolo arancione su una spalla e mettersi in mezzo agli are Krishna che evidentemente negli anni 80 erano una cosa adesso non se ne parla più tanto a Londra ci sono ancora e questo va detto a Londra ci sono ancora ed è sempre una delle cose più belle a vedere durante i weekend quindi ti posso raccontare quello però sì no in effetti in Italia non ho la più pallida idea di dove si sono visti e per quanto tempo cioè in Italia non mi ha mai io mi ricordo una gag in vacanze di Natale 95 che c'è Massimo Boldi che viene importunato da tutti i rompicoglioni all'aeroporto e ci sono i testimoni di Geova e c'è quello che chiede i soldi per l'eroina e poi c'è anche l'area Krishna quindi fino al 95 era in tutta la mia vita stava rifacendo l'aero più pazzo del mondo quella scena dove la fine si mette cioè non so se ricordi l'aero più pazzo del mondo no 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 sai che mi sa che ho descritto la scena dell'aero più pazzo del mondo per qualche motivo ci ho messo Massimo Boldi non è veramente vacanze di Natale ok però io mi immagino che Boldi abbia avuto da ridire con un'area Krishna quindi non può succedere ok ok quindi tutto questo arriva a quella che forse è la scena più memorabile dell'intero film ovvero la scazzottata tra lui e Dick Sean e quindi travestito contro Hare Krishna e questa è l'idea e questa è l'idea culmine del film perché va avanti tantissimo quel combattimento perché è una roba proprio la essi vivono cioè una roba che sembra che duri otto minuti come come Roddy Piper contro contro Keith David in essi vivono e loro spaccano veramente cioè spaccano l'intera stanza cioè è proprio una rissa da film western sì sì inizia in un appartamento mi sembra che finisca in un altro vanno dappertutto sfondano qualsiasi cosa c'è stato chiaramente più preparazione per quel combattimento che per tutto il resto del film questo sì l'aneddoto che ti posso raccontare è che Dick Sean non usa la controfigura ha insistito per fare tutto il combattimento lui che grande nonostante la preoccupazione di tutti gli altri perché odiava Yare Krishna probabilmente probabilmente è quello però sì rimane oggi una delle scene più spettacolari che gli anni 80 abbiano regalato penso di poter dire è così c'è che altro basta c'è sto film dura 90 minuti mi succede qualcosa è piaciuto molto anche il finale finale proprio cioè il bello secondo me di questo genere è che andavano veramente a fare le riprese nei luoghi di cui parlavano che all'epoca erano più o meno a disposizione e il regista racconta che girare sull'Hollywood Boulevard è difficilissimo però era ancora possibile ed era ancora possibile per un film a basso costo oggi non ho la più pallida idea oggi probabilmente se non sei Ty West con uno street cred così non ce la fai come minimo credo che sia banalmente costosissimo bloccare l'intera strada per fare le riprese farti dare i permessi eccetera sì qua cioè racconta che lui avevano più o meno una mezz'oretta a disposizione per fare quel che dovevano fare e non so come siano riusciti a girare l'intero film in 20 giorni che è un'altra delle cose che racconta però c'è la ricetta segreta di Corwin esatto c'è un intero finale dove c'è la nostra Angel che riesce a raccogliere una pistola e inseguire il killer proprio nel mezzo del vialone con il traffico le persone intorno eccetera e va a spararlo che è spettacolare anche per il semplice fatto di essere stata girata proprio lì in mezzo alla strada con tutto il traffico che è una roba che da un film a basso costo non una volta ce la facevano adesso non ci si riesce praticamente più che è un gran peccato ed è uno dei motivi per cui mi piace questo sottogenere non solo quando riesco a girare sull'Hollywood Boulevard ovviamente la stessa cosa anche alla 42esima strada di New York o Times Square quando era ancora malfamata è una delle cose che personalmente trovo più affascinanti ecco bene poi ci sono i sequel allora questo film come dicevamo ebbe un successo insomma lento imprevisto calcato soprattutto dall'uscita in un video per cui immediatamente l'anno dopo Corman prende Robert Vince e dice fammi il sequel penso che Donna Wilkes abbia rinunciato a girare il sequel per non rimanere incastrata in quel tipo di ruolo nel senso che aveva capito che una occasione era ok per avere un ruolo da protagonista in più un doppio ruolo tra virgolette in cui far vedere un range diverso di cose che sapeva fare però sì è un'idea che nella teoria ha senso non per colpa sua ma perché cioè non è che era così diversa dal momento che non faceva niente sì esatto però insomma aveva paura che a girare anche il sequel poi sarebbe rimasta incastrata nel sottogenere più o meno mentre lei voleva poi lei lei cosa ha fatto ha diventato un'attrice di SOAP penso di sì non ha fatto niente di particolarmente famoso sto ricontrollando in questo istante lei compariva nello scuolo 2 ma questo era prima di Angel aveva un piccolo ruolo nello scuolo 2 però questo era 5 anni prima di Angel dopo sì no non ha fatto quasi niente poverina purtroppo è finita in realtà a fare Grotesque che uno dei mille film di serie B che faceva Linda Blair negli anni 80 è vero sì poi a un certo punto ci ha dato mucchio a un certo punto negli anni 90 l'ha rinunciato e penso che sia tornata a comparire qua là puramente quel tipo di film fatti da quei cinefili che si ricordano di te perché hai fatto Angel negli anni 80 e allora ti chiamano a fare una comparsata veloce e quel tipo di roba lì però in realtà ci hanno funzionato dopo Angel ha fatto delle serie tv però proprio un episodio solo tra l'altro questa serie tv che scopro adesso che esiste si chiama The New Adam 12 The New Adam 12 io mi ricordo Adam 12 che non era particolarmente famosa però non sapevo che fosse quel tipo di serie di cui serviva un reboot nel 91 ma che cos'è non lo conosco era una roba di poliziotti adesso se recupero al volo Adam 12 l'originale perché ho dei ricordi ma non Adam 12 era una roba vecchia in effetti era una roba degli anni dei primi anni 70 mi ricordavo non la ricordavo più recente allora forse tu ti ricordavi The New Adam 12 ma in realtà ho abbastanza sicuro che mi ricordavo abbastanza sicuro che mi ricordavo l'originale però vabbè cioè non era una cosa che guardavo era una cosa che sapevo che esisteva e che lo sapevo all'epoca però non la guardavo comunque nel sequel lei rinuncia quindi tocca riempiazzarlo con un'altra attrice e sicuro rifacciamo vedere il poster la nuova attrice è Betsy Russell sembra molto più grande anche perché è più alta stazialmente è più alta cioè è tutto il trucco perché in realtà lei ha quattro anni in meno di Donna Wix però appena un anno dopo deve fare lo stesso personaggio ma cresciuto e già in carriera sostanzialmente una delle cose divertenti che fa il sequel è che nel giro di pochissimo lei passa dall'essere una prostituta minorenne a un avvocato in carriera sì sì il sequel inizia che è tutto finito lei si è fatta una vita nuova completamente diversa ti fanno capire che il poliziotto che cercava di tirarla via dalla strada è diventato il suo tutore legale o qualcosa del genere e e basta e dice io quella vita me la sono lasciata alle spalle però tu pensi al film prima e dici quale vita cosa non facevi niente e e qua è dove cioè il film cambia anche tono cioè che la cosa è la cosa che lascia i più perplessi allora la vaga idea che mi sono fatto è che una volta che si è scoperto che il primo film intrigava hanno avuto paura che fosse più per il marketing che per il film in sé e quindi hanno cercato di farlo ancora più commerciale e in realtà farlo ancora più commerciale significa che cioè ci infilano dentro della slapstick comedy senza motivo cioè di colpo cioè appartiene proprio a malapena il genere che abbiamo descritto fino ad ora ma c'è per tutta per tutti i primi 40 minuti è tranquillamente una come togli i primi 10 minuti in cui tra l'altro è l'unica scena diciamo cinematograficamente di valore di tutto il film la sequenza iniziale con i sicari che si preparano ad ammazzare la poliziotta poi c'è tutta la sparatoria con una musica strafiga di sottofondo che adesso non mi ricordo cos'era però è l'unica parte bella cinematograficamente che ti fa anche pensare però potrei potrei aver detto io mi ricordo i bronski beat adesso da controllare se erano i bronski beat è l'unica parte che ti fa pensare al film precedente e comunque a quel filone lì anche a Vice Squad eccetera poi diventa una commedia per i successivi 40 minuti è una commedia di lei che torna a Los Angeles si incontra con i vecchi amici che incredibilmente la riconoscono nonostante sia cambiata l'attrice e stanno lì un quarto d'ora a raccontarsi come stai cosa fai non è più come una volta adesso c'è la gentrificazione la gentrificazione è un tema importantissimo in sto film poi c'è c'è Kit Carson che che hanno messo in un ospizio loro devono farlo evadere dall'ospizio ed è tutto cioè di loro che fanno i travestimenti loro che devono come direbbero da queste parti come scenanica si si fanno una serie di scenanigans e matte risate per tutta la famiglia ma se io volevo matte risate per tutta la famiglia perché ho visto Angel 2 si sostanzialmente cioè il punto è che lo trasformano in quel tipo di personaggio che dopo essere uscita dalla vita difficile che c'è nel primo film si è data una sistemata è a posto semborghesita semborghesita viene però tirata dentro a indagare su casi particolari quindi lei decide di l'altra storia è una specie di supereroe sostanzialmente cioè lei decide di tornare a fare Angel quindi tornare sulla strada a prostituirsi col nome a prostituirsi a infiltrarsi sostanzialmente il suo outfit da prostituta è l'outfit di qualunque persona andasse in palestra negli anni 80 si esatto cioè è un body con le calze si è i tacchi l'unica cosa che non metteresti in palestra ecco si però è quello sostanzialmente diventa una specie di supereroe che il cui unico potere è che se si mette sull'Hollywood Boulevard si mischia con altri colleghi ma la gente si ferma è questo cioè comincia a somigliare sempre di più a certi telefilm che andavano appunto negli anni 80 anche se non c'è minimo senso ecco è veramente film di supereroe tranne che non diventi un supereroe cioè diventi comunque va il film incassa meno soldi dell'originale rimangono comunque abbastanza da farne un terzo e terzo cambia ancora l'attrice protagonista questo è il poster stavolta lei ha un nome bellissimo lei è prostituta di giorno e prostituta di notte però questo è un altro personaggio direttamente l'attrice si chiama Mizzicaptur che è un nome fighissimo Mizzicaptur Mizzicaptur insomma se nel secondo era un avvocato nel terzo di colpo ha cambiato mestiere e di colpo è diventata fotografa quindi un grave un grave calo di carriera penso che nel secondo ci siano delle scene dove cominci a dirle ma a fare queste cose non pensi di mettere in pericolo la tua carriera di avvocato e quindi tanto poi nel prossimo faccio la foto reporter esatto quindi nel terzo fa la foto reporter una donna del rinascimento fa notare Marco Holland sa fare giustamente tutto comunque insomma se in Italia il primo si chiamava Angel Killer il secondo Angel Killer 2 la vendetta il terzo in Italia si chiama ovviamente Angel Killer 3 Tokyo Drift no purtroppo non è vero non ho notizie del titolo italiano di Angel 3 capitolo finale esatto comunque sì capitolo finale quindi esattamente come il titolo originale e anche se il tema della trilogia è il lavoro precario esatto effetti può essere ramma delle partite iva qua nascono veramente tantissime controversie perché comunque viene considerato come parte della trilogia però in realtà non torna lo sceneggiatore regista dei primi due Robert Vincent O'Neill al suo posto il creatore di Silk Stalkings direttamente lui o comunque lei è la protagonista di Silk Stalkings adesso fatemi recuperare immediatamente è un film nel primo il cattivo era un serial killer nel secondo sono questi speculatori immobiliari che vogliono gentrificare l'Hollywood Boulevard e nel terzo c'è questa cospirazione mondiale con le spie libiche che mettono le bombe sotto le macchine sì c'è una roba cazzo sì allora lui allora lui il regista del terzo film si chiama Tom De Simone e non è De Simone il collega di di Lino Banff in Fracchi e la Belva Umana ma è uno che fa il regista però ogni volta che l'è De Simone mi fa sempre sorridere no è proprio un manovalante di quelli clamorosi che prima aveva fatto Reform School Girls che confondo con altri 15 film dal titolo simile sempre di Jason esatto poi poi ha girato quattro episodi della serie tv tratta da Nightmare che mi ricordo è una specie di Freddy's Nightmare era Freddy's Nightmare era arrivata anche in Italia era praticamente Tales of the Crypt però al posto dello zio dello zio creep c'era Freddy Krueger però erano a parte il primo episodio che era un prequel di Nightmare girato da Toby Hooper proprio cortocircuito gigantesco e purtroppo anche venuto male nei miei ricordi gli altri erano tutti episodi antologici random ma era era lui che faceva Freddy Krueger era sempre lui era sempre lui e faceva lo zio tibia della situazione sostanzialmente io di questo terzo film ho apprezzato le scene ambientate nel mondo del cinema luci rosse perché mi facciamo piegare il 2 da ridere e volontariamente cioè tra vedere il regista cioè tra il regista che dirige l'attrice un po' imbranata cerca di farle fare le scene sexy tra queste che poi vanno nel personaggio tra queste che poi vanno negli spogliatoi e cominciano a parlare tipo di di real estate o di cominciano a parlare di affari perché loro vogliono lasciare il porno e diventare donne d'affari sì diventare agenti immobiliari una roba del genere e comunque è una buona idea non è un'idea cattiva sono più preoccupato per il regista che è convinto di stare facendo shakespeare esatto e invece invece niente però il film di nuovo cambia tono diventa ancora più commerciale e sempre meno sleazy se vogliamo ma ancora proprio il terzo mi sembra veramente il classico telefilm a me è venuto in mente baywatch night come tipo di tono secondo me baywatch by night era meglio io la cosa che ho trovato veramente che mi ha proprio portato fuori dal film è che il punto del terzo film è che lei ritrova la madre che l'aveva abbandonata e finché tu non ci pensi nel primo film te lo buttano così la madre non te lo dicono chiaramente però era una tossica di merda che l'ha abbandonata quando va a 12 anni e non è mai più tornata va bene non stiamo a ragionarci sopra non stiamo a problematizzarlo non stiamo a immaginare chissà che contesto è così e basta lo accetto nel terzo film lei ritrova la madre e ti raccontano questa storia da sopopera che non ha il minimo senso sì ma anche perché ritrova la madre la madre sta lavorando come segretario in una galleria d'arte cioè non è che sta sotto i punti o chissà cosa infatti cercano di contestualizzare di razionalizzare questa cosa e cercano di renderlo serio serio e drammatico e c'è questa cosa con la musica degli occhi del cuore e loro che piangono e lei dice no io non sono mai tornata a riprenderti perché mi vergognavo di averti abbandonata c'è delle robe che sfocia completamente in territorio sopopera che non fa ridere i polli il terzo poi per coincidenza è anche quello con il cast un po' più più ricco perché comunque la cattiva è Maud Adams che è stata una di quelle pochissime persone che sono state Bond Girls due volte ovvero Octopussy e quell'altro era quello che Christopher Lee l'uomo della pistola mi sembra poi c'è niente meno che Richard Rountree ovvero Shafty in persona e poi invece questo è per gli amanti so che qua dentro ci sono degli amanti di Robin Hood un uomo in calzamaglia eccomi ma la spalla comica è Mark Blankfield che è quello che in Robin Hood un uomo in calzamaglia come è che si chiamava Bello Sguardo Bello Sguardo esatto bravissimo attore un sacco di faccette veramente molto bravo se no avessi pronta un'immagine di Bello Sguardo no in realtà no perché mi è venuto in mente adesso che c'era Bello Sguardo io purtroppo dei sequel l'ho preparato solo i poster e l'ultimo l'ultimo quello che si chiamava meno preparato in assoluto perché io ho scoperto che esisteva un'ora fa c'è anche un quarto capitolo il punto è questo il quarto capitolo è veramente super apocrifo al di là dalla cover che sembra quella di un porno vero stavolta almeno finalmente almeno esatto però voglio dire lei è cresciuta mi sembra abbia almeno 28 anni se lo può permettere però almeno di giorno fa l'executive capito parche serie quindi ha cambiato lavoro di me quindi ha cambiato lavoro una quarta volta allora in realtà sono andata cioè purtroppo non l'ho visto perché ci sono un sacco di controversie e viene considerato apocrifo e quando un paio di anni fa l'importantissimo canone di Angel ho visto ho visto saghe molto più sfigate di Angel litigarsi su cosa fosse canon e cosa no per cui non dico niente riguarda siamo ai livelli del doppio prequel dell'esorcista sì cioè ci siamo per perdere altre forse abbiamo parlato quando ho fatto quando abbiamo avuto ospite Eugenio Ercolani con cui ho fatto i commenti di Hathor cioè ho fatto i commenti del Blu-ray di Hathor 3 e l'abbiamo avuto ospite per parlare di Conquest di Fugge e probabilmente abbiamo citato però Hathor 3 è apocrifo girato da un regista che non era quello dei primi due il quale gira il suo Hathor 4 che è la storia che avrebbe voluto raccontare lui nel terzo che però non aveva più i diritti del personaggio e lo chiamare in un altro modo con altri nomi eccetera siamo a questi livelli qua come se interessasse a qualcuno ho capito a me interessa di Hathor comunque Angel allora quello che ho capito io è che doveva essere il pilot di una serie tv che poi non è mai partita e che a un certo punto hanno trasformato nel quarto capitolo però siccome era una roba che non avevano fatto penso coinvolgendo veramente nessuno degli altri quando è uscito il cofanetto dei film di Angel un paio d'anni fa in Blu-ray ci hanno messo solo i primi tre in giro tutti ne parlo come della trilogia di Angel e questo forse proprio per il fatto di non essere un vero capitolo ma di essere un pilot abbandonato e poi ridistribuito viene considerato insomma una cosa una cosa a sé stante per cui sì purtroppo al di là che cambiano di nuovo tutti che l'unico personaggio che torna è quello di lei e il fatto che cambia mestiere di nuovo fa l'exec parca miseria è peggio della Barbie chissà nel prossimo cosa faceva adorerei una linea Barbie Angel esatto Barbie Angel sarebbe bellissimo però studentessa prostituta studentessa di legge di nuovo prostituta che però va in palestra esatto e quindi niente tutto qui molto bene direi che stiamo all'unico tempo anche perché abbiamo parlato di un sacco di cose per cui passerei alla mia nuova rubrica preferita che è quella del trivia più insulso della settimana o dovrei dire stavolta posso dire trivia perché ce ne ho due perché ne ho preparato uno di Angel che ve lo faccio vedere subito è questo quando Angel incontra un cliente nel motel la targa del cliente dice je me souviens se perdonate l'accetto terribile che significa I remember io ricordo che è il motto del Kubrick da dove viene appunto il personaggio del cliente la roba che ti rivisca wow wow cioè questa è la chiave di lettura che mi permette di capire non solo Angel ma anche Deadpool e Wolverine esatto spiega veramente tantissime cose non mi sono fermato lì perché ho trovato un aneddoto che mi ha fatto ridere anche nei trivia di omicidio e luci rosse ovvero il seguente parte interessante la fobia psicologica del protagonista Jake Skelly è la claustrofobia però il film non si intitola claustrofobia cioè fa ridere però in effetti ha il suo senso perché omicidio e luci rosse è un film che si ispira tantissimo a Hitchcock e Hitchcock quando aveva un protagonista con una fobia ci intitolava il film vertigo psycho fobia del 1980 avevo un'idea cosa sia però frenzy però mi ha fatto ridere perché ci mette arachnofobia del 1990 fa tutto brodo fa tutto brodo non avevo allora non avevo notato questo fobia del 1980 e quindi nella mia testa aveva citato tre film di Hitchcock e poi arachnofobia completamente a casa e mi faceva ridere per quello molto bene detto questo passiamo a quella che invece è la rubrica più attesa della serata ovvero il premio Jimmy Bobo allora per il premio Jimmy Bobo ve lo spiego molto velocemente abbiamo cercato cinque nomi che ci facessero ridere nelle schede IMDB dei film di cui vi abbiamo parlato questa sera ora ve le presentiamo una per una e voi dovete scegliere il nome che vi fa più ridere e votarlo per votarlo dovrete quando vi do il via non prima dovrete scrivere nei commenti il numero che corrisponde al nome che vi fa più ridere ora io mi sono guardato le schede IMDB di letteralmente tutti i film di cui abbiamo parlato stasera alla fine però la cinquina l'ho presa tutta direttamente da Maxine così secco se l'è meritato se l'è meritato e ve li vado immediatamente a presentare allora cominciamo dall'inizio ovvero cominciamo dal titolo John Title John Title Sound Designer con il numero uno con il numero l'ultimo nome sia Peter and Credits spero purtroppo no ma non per spoilerare purtroppo col secondo nome ci agganciamo immediatamente questo è un suo collega e azzarderei dire il suo collega peggiore il più problematico della squadra perché lavora sempre come Sound Utility e si chiama Nick Ronville che ha provocato immagino un sacco di problemi con il numero tre abbiamo una persona che dà l'idea del budget che avevano per Maxine immagino abbiamo Michel Sfarzo Makeup Artist il numero quattro ci colleghiamo immediatamente perché questa è una collega ed è una collega che ha cercato di riequilibrare un po' le cose probabilmente quindi se questo nome vi ha fatto pensare a un budget forse più esagerato di quello che effettivamente si vede a schermo è perché con il numero quattro come makeup designer abbiamo Sara Rubano infine con il candidato numero cinque abbiamo un assistente cameraman di cui non sono riusciti a recuperare il cognome ha recuperato solo di dove fosse cos'è The Los Angeles almeno quando hai bisogno di lui sai dove trovarlo esatto non si ricordavano come si chiamava almeno si ricordavano di dove era lo chiamavano così cos'è The Los Angeles quindi ricapitolando con il numero uno John Title numero due Nick Ronzio numero tre Michel Sfarzo numero quattro Sara Rubano numero cinque cos'è M The Los Angeles potete iniziare a votare a partire da adesso quindi per votare scrivete il numero nei commenti eccetera eccetera vedo che ancora non vedo niente sì sì stanno votando perfetto non li vedo intanto che i nostri amici votano posso proporti una cosa un po' pazza vai ringraziamo lo sponsor sì ci sto direi di ringraziare Lucky Red che ha sponsorizzato la serata e io farei anche vedere farei anche vedere qualcosa così lo faccio eccome purtroppo quando vengono i nomi dei dei Jimmy Bobo non si vedono più le descrizioni dei nostri nomi ah ok perché io ho cambiato come Angel ho cambiato identità per l'occasione ok facciamolo vedere unboxing quantum content creator giusto diciamo giusto perché Lucky Red ha veramente fatto il proverbiale passo più lungo della gamba mandandoci a casa una roba senza senso che ora vi mostro vai il gioco da tavola no il gioco da tavola di Maxine no è un un box con dentro qualunque cosa per rendere la vostra estate hot and bloody che bloody ok hot secondo me non c'era bisogno no infatti non non quindi mi sembra fuori luogo ok e si tratta in realtà di un di un doppio regalo perché ci ricorda dell'esistenza sia di Maxine che di un altro ottimo film di quest'anno che è Lovelies Bleeding e ora con estrema fatica perché si vede che questo non è il mio mestiere andrò ad aprirlo a beneficio di telecamera guarda io sono peraltro stupito di quello che c'è dentro come se non lo avessi già aperto nel momento esatto in cui mi è arrivato ci manca il cellophane non so se togliere il cellophane era la parte più importante degli unboxing infatti io sai che io adoro negli unboxing quando passano tre quarti d'ora con il taglierino a fare una precisissima guarda ora io ti dico questo io so che esistono gli unboxing so in cosa consistono non sono sicuro ancora di capire perché piacciono mi fido avevo l'ipotesi che era effetto ASMR quando togli il cellophane dai pacchi spero non sia quello perché questa è una fase che ci manca vai e abbiamo come vedete il box diviso in due metà una dedicata a Maxine e l'altra a Love Lies Bleeding rimuovendo la copertura abbiamo accesso a una serie di gadget questo è vuoto perché lo indosso in questo momento è la maglietta di Maxine modello numero 4 quantum mentre poco sotto abbiamo la maglietta per andare in palestra di Love Lies Bleeding che è molto più bella ma purtroppo non è la mia taglia ok la voglio e ci tiro immediatamente via le maniche è della Carter Gym dove è ambientato il film ed è proprio l'abbigliamento dello staff fantastico ok spedichemela su gli levo immediatamente le maniche e me la metto tutti i giorni poi per essere sicuro di essere pronti ad affrontare la vostra giornata in palestra oltre alla maglietta ci sono i calzini della Carter Gym che belli che belli quelli sono spettacoli su un tocco di classe poi le cartoline posterini d'obbligo di Love Lies Bleeding con i tre protagonisti ma senza testa quindi non saprai mai di chi stiamo parlando no spoiler no spoiler non vedremo che ci sono sempre all'insegna del no spoiler non spiegherò perché il terzo gadget di Love Lies Bleeding è Spence oh qua c'è ancora il cellophane quindi magari un po' sempre della Carter Gym fantastico fantastico dopodiché passando ai gadget di Maxine oltre all'ottima maglietta che mi fa un figurino che so che mi state invidiando in molti ci sono i trucchi ah sì questo perché hanno letto la mia recensione di I Saw The TV Glow hanno saputo del mio coming out come persona non binary e quindi hanno detto mandiamogli del lucidalabbra ci sta e anche dell'ombretto che non sto a farvi vedere perché è una scatolina un foglio di carta che in realtà è il è la cosa più importante facciamo forse la videocassetta del è il in realtà è il volantino delle serate che fanno in alcuni cinema selezionati la sera del 20 agosto che fanno una maratona fanno X Pearl e poi allo stoccare della mezzanotte fanno Maxine che trovate qui c'è il quarto di maria basta scrivere Maxine film su google e trovate il sito con la lista di tutti i cinema che fanno questa cosa poi la roba più figa sono i blu-ray dei primi due film Maxine e poi questo è per veri intenditori c'è un'illustrazione del milone manara nazionale fantastico fantastico e ritrae il personaggio di Maxine mentre dice maledetta hollywood esatto perché è un posto pieno di ipocrisie e di persone farze esatto io sono contentissimo di questa cosa che non ho la minima idea di dove mettere ma è bellissima e non la smonterò mai ok l'unica cosa aver saputo prima mi sarebbe piaciuto intervistare Milo Manara e chiedergli l'opinione di Maxine quello potrebbe essere una cosa interessante da dire ti avrebbe detto parla di cinema luci rosse quindi mi piace a prescindere esatto mi sembra giusto molto bene nel frattempo direi che possiamo chiudere i voti è stata una votazione mi sembra bella equilibrata ok ho cominciato a sbagliare i bottoni quindi vi beccate la cronaca in pieno di quello che sto facendo i voti sono ufficialmente chiusi e ora con velocità invidiabile li carico e ve li faccio vedere eccoli qua direi che che ha vinto in maniera abbastanza netta il nostro Nico cos'è de los angeles e permettimi di dire giusto così congratulazioni a cos'è de los angeles congratulazioni a tutta la città di los angeles vera protagonista di questo episodio della 400 live esatto mi sembra giustissimo al secondo posto Nick Ronzio altro secondo posto molto meritato siamo tutti molto contenti cos'è de los angeles parca miseria avessimo visto quel nome lì in un film come nome di un personaggio avresti detto no non può chiamarsi così avremmo tirato degli accidenti però è il suo nome spero e quindi non possiamo protestare comunque non ci rimane quindi che ricordarvi i prossimi appuntamenti con le dirette dei 400 calci lunedì prossimo come sempre appuntamento con le news della settimana mentre giovedì prossimo appuntamento con niente perché è ferragosto e quindi ci riposiamo in compenso vi possiamo dire in anteprima di cosa parleremo non giovedì 15 perché siamo in vacanza ma il giovedì seguente che se la matematica non mi tradisce è il 22 giovedì 22 in occasione dell'uscita dell'apposito remake se non gli cambiano la data di nuovo comunque noi vi ci prepariamo parliamo di Il Corvo che è un film molto estivo da cui la scelta di far uscire il remake in pieno agosto è notoriamente molto estivo soprattutto la colonna sonora spesso ballata nei beach bar delle località in tutti i luoghi più solari della riviera di Magliola ogni volta che andavo a Riccione alle 4 del pomeriggio passavo a prendere un mojito e era sempre su Dead Soul dei Nine Inch Nails che mi faceva compagnia e mi rendeva proprio la permanenza in spiaggia sempre più spensierata e piacevole tu ovviamente con l'impermeabile di pelle che arrivava fino alle capi gli anfibi tutto quanto tutto quanto sto pensando di farmi degli anfibi a infradito per quest'estate io per la per la prossima live inizio ora a truccarmi non so se partecipo magari commento soltanto però lo faccio con tutto il nero cesta esatto proprio del fine agosto però c'è poco da fare il film esce effettivamente proprio in tutto il mondo a fine agosto quindi stavolta con un il Skarsgård che non sta facendo assolutamente nulla per farsi typecastare esatto lui non è per nulla preoccupato di rimanere incastrato in una tipologia di personaggio esatto comunque il piano è questo vi parleremo soprattutto del primo film io però siccome sono un pazzo scatenato mi sono guardato già anche tutti i sequel quindi probabilmente accennerò anche ai sequel del Corvo io so che ce n'è uno con David Boreanaz che fa il cattivo sì confermo e un altro dove c'è Kristen Dunst che fa la bella sì confermo anche quello confermo anche quello cioè una delle cose più particolari della saga del Corvo che vi anticipo già da ora è che più vanno avanti più diventano brutti ma più hanno il cast ricco per qualche motivo nell'ultimo c'è Matthew McConaughey però fa schifo al cazzo diminuisce il budget ma per qualche motivo aumentano le fazze famose nel quinto c'è Joaquin Phoenix no e Kate Blanchett e basta no non è vero ovviamente comunque parleremo del Corvo soprattutto dell'originale con Brandon Lee che è quello che conta e basta questo è tutto quindi lunedì appuntamento con le news giovedì 15 niente giovedì 22 il Corvo detto questo non mi rimane non ci rimane che ringraziarvi tantissimo per averci seguito ringraziamo chi ci ha seguito in diretta ringraziamo chi ci ha seguito in differita perché non siamo indifferenti alla differita ringraziamo Cristiana Liprandi e Dario Cogliati per la videosigla il maestro Ludwig Van Verhoeven per la trilogia delle vittime di Valverde per la vittima di Valverde in Nanowar of Steel per la sigla classica di 400 calci e ciao buonanotte a tutti ciao